Un progetto di grande rilevanza che potrebbe rappresentare una svolta dal punto di vista economico e occupazionale per Civitavecchia è quello che sarebbe in procinto di essere presentato da una società specializzata in servizi per lo yachting di alto livello. Fiducia in un buon esito ma anche tanti aspetti che in città vanno migliorati per aumentare le vendite, si può riassumere così l'analisi effettuata da ConfCommercio in occasione dei saldi estivi al Via Sabato nel Lazio e quindi anche a Civitavecchia. Un nuovo sito da riqualificare, quello della Mattonara che la sovrintendenza ha da qualche giorno affidato alla sezione locale, la Ulpia, del gruppo archeologico romano. Quinta edizione per Dal mito alla storia, manifestazione organizzata dalla Proloco, tre le rappresentazioni previste alle terme di Traiano e che si ispirano al tema dei miti delle fondazioni delle grandi città. Il Civitavecchia è ovviamente ambizioso, sono le prime parole del nuovo direttore sportivo nero-azzurro Marco Angelo Core che si presenta e promette altri acquisti. Di nuovo buonasera dal nostro telegiornale, apriamo con un progetto, non solo l'eolico offshore, qualcosa sembra muoversi per il futuro di Civitavecchia, non più legato alla presenza della centrale a carbone. Si tratta appunto di un progetto di particolare importanza che non è passato ancora nelle stanze della politica e del quale ovviamente non si è mai parlato al tavolo dove si discute del post carbone. Il progetto prevede la realizzazione a nord del porto di una vasta area da mettere a disposizione per una serie di attività legate allo yachting, il servizio. Un progetto di grande rilevanza che potrebbe veramente rappresentare una svolta dal punto di vista economico e occupazionale per Civitavecchia. È quello che sarebbe in procinto di essere presentato da una società specializzata in servizi per lo yachting di alto livello guidata da un manager conosciutissimo in ambito nazionale e internazionale. Non se ne è parlato durante la recente campagna elettorale perché probabilmente nessuno dei candidati sindaco ne era a conoscenza e non ha potuto quindi cavalcarne l'onda. Per trovare attenzione il progetto necessita di ampi spazi nell'area portuale a nord. Si tratta di un intervento talmente rilevante che stando a quanto si dice si renderebbe necessario procedere ad una variante del piano regolatore portuale con tempi che potrebbero quindi non essere brevi. In una fase iniziale le attività potrebbero iniziare utilizzando la banchina a disposizione di Enel e che continua ad ospitare le ultime carboniere che approvvigioneranno la centrale di Torre Valdaliga Nord fino al momento del termine del cosiddetto phase out ovvero dell'attuale fase di eliminazione graduale della fonte fossile. A riguardo sembra che ci sia già stato un primo contatto tra il manager promotore dell'iniziativa ai vertici della SPA energetica. Il progetto non entrerebbe in conflitto con l'eventuale realizzazione del lab per la costruzione e manutenzione delle apparecchiature necessarie all'eolico offshore. Darebbe anzi a tutta la parte a nord del porto di Civitavecchia dei connotati molto particolari trasformandola in una sorta di grande zona industriale con alcuni attracchi a disposizione. Staremo a vedere se questa apparentemente grande iniziativa di carattere industriale di cui si parla sotto traccia avrà modo di essere confermata attraverso atti concreti. Il primo per instaurare almeno un clima di condivisione con la comunità locale dovrebbe riguardare una presentazione ufficiale alla città. Un tempo si faceva così e le cose non si decidevano altrove. Parliamo adesso di cronaca. Capita a volte che lo stalking che vede solitamente protagonista l'uomo che rende la vita impossibile alla donna avvenga al contrario e questa volta è successo a Civitavecchia dove una donna di 43 anni è arrestata dalla polizia dopo aver pesantemente minacciato i congiunti dell'uomo con il quale aveva avuto per un po' di tempo una relazione clandestina e che era finita. A far esplodere il caso è stato un episodio avvenuto alla fine della scorsa settimana quando all'interno di un impianto sportivo la donna ha incontrato il figlio dell'ex amante e ha iniziato ad insultarlo e nei confronti del quale ha anche lanciato dei sassi. Il ragazzo ha immortalato la scena col suo smartphone e poi richiesto l'intervento delle forze dell'ordine. Dopo una breve indagine nel corso della quale è emerso che le minacce erano arrivate anche ad altri congiunti, gli uomini del commissariato di Viale della Vittoria hanno rintracciato e fermato la donna nei confronti della quale successivamente è arrivato il provvedimento di restrizione in casa da parte del giudice del Tribunale di Civitavecchia. E un Civitavecchiese di 49 anni è stato tratto in arresto dalla Polizia di Stato con l'accusa di maltrattamenti in famiglia, resistenza, violenza e minacce a pubblico ufficiale. Nella notte tra domenica e lunedì l'uomo si era presentato a casa completamente ubriaco e aveva tentato di aggredire la moglie e i figli arrivando anche a distruggere alcuni oggetti di arredamento. A dare l'allarme su quanto stava avvenendo è stata una delle figlie in quel momento fuori casa che era stata avvertita dai fratelli. Sul posto si è quindi portata una volante del commissariato ma l'uomo ha continuato nel suo atteggiamento minacciando pesantemente anche gli agenti intervenuti. A quel punto è scattato il fermo, l'uomo è stato condotto negli uffici di Viale della Vittoria dove è anche emerso che tre anni fa era stato denunciato dai familiari per un episodio analogo e successivamente trasferito al carcere di Borgata Aurelia. Successivamente il magistrato ha disposto l'applicazione del braccialetto elettronico e la misura degli arresti domiciliari ovviamente in un'abitazione diversa da quella dove risiedeva con la famiglia. I civitavecchiesi scelgono i negozi locali e li preferiscono ai centri commerciali. È uno dei dati che emerge nell'analisi di mercato effettuata da ConfCommercio in occasione dei saldi estivi al via sabato a Civitavecchia così come in tutto il Lazio. C'è fiducia quindi da parte dei commercianti che però chiedono di poter migliorare alcuni aspetti. Ascoltiamo il servizio. Fiducia ma anche tanti aspetti che vanno migliorati. Si può riassumere così l'analisi effettuata da ConfCommercio in occasione dei saldi estivi al via domani nel Lazio e quindi anche a Civitavecchia. Secondo l'associazione di categoria il 68,8% dei cittadini intervistati è intenzionato a fare acquisti durante questo periodo di sconti soprattutto per comprare articoli visti in precedenza. In particolare oltre il 70% opterà per un capo d'abbigliamento mentre il 45% è direzionato verso il settore calzature. L'e-commerce continuerà a essere una scelta utilizzata anche se il 45,5% acquisterà comunque offline, il 5,6% solamente online e il 39% in entrambe le modalità. Per quanto riguarda i luoghi preferiti per lo shopping, la maggior parte dei cittadini di Civitavecchia preferirebbe frequentare i negozi della città piuttosto che regarsi ai centri commerciali. Aspetto questo che sottolinea il desiderio di supportare il commercio locale e di vivere un'esperienza di shopping più personalizzata e caratteristica. Proprio con l'obiettivo di fare acquisti in un luogo dedicato, quasi la totalità dei cittadini intervistati richiede un restyling nella zona di Corso Marconi dove sono presenti oltre 100 attività. Una richiesta che fa il paio con il desiderio di vedere finalmente un mercato cittadino riqualificato oltre alla richiesta relativa ad una mobilità che consenta di non dover utilizzare obbligatoriamente l'auto per fare shopping. I commercianti richiedono invece che i pullman che portano i croceristi in visita alla città facciano più fermate permettendo ai turisti di scendere e visitare i negozi locali e incrementando significativamente le vendite durante il periodo dei saldi. Infine, secondo ConfCommercio, numerosi commercianti stanno sollecitando le istituzioni per ottenere la possibilità di assumere personale direttamente dagli istituti tecnici con modalità di stage e con contributi speciali che permetterebbero di contribuire all'apertura prolungata dei negozi stessi, migliorando il servizio ai clienti e offrendo opportunità formative ai giovani del territorio. Abbiamo visto che molti cittadini e molti commercianti credono ancora nella possibilità di realizzare una città a transizione turistica e al contempo commerciale, afferma il vicepresidente di ConfCommercio Cristiano Avolio. Servono interventi mirati da parte delle istituzioni che trasformino la città di Civitavecchia in una città più funzionale. Siamo convinti che argomenti come il miglioramento degli arredi urbani, la digitalizzazione della città e la formazione relativa ai giovani abbiano come obiettivo l'aumento della qualità di vita di tutti. L'associazione di categoria si dice a completa disposizione delle istituzioni e di tutti i commercianti per promuovere insieme uno sviluppo attivo, collaborando fattivamente anche con il gruppo Giovani Imprenditori Roma, di cui lo stesso Avolio fa parte, ricevendo poche settimane fa anche la delega alla formazione. Parliamo di politica a un incontro con gli elettori e con tutti i cittadini che intendono condividere e portare avanti i progetti per la città e per il territorio. È quello che hanno organizzato Roberta Morbidelli e Attilio Bassetti di Fratelli d'Italia per domani alle 19 in Via Novazzi 1. Interverranno l'onorevole Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera dei Deputati, e l'onorevole Fabrizio Ghera, assessore alla Regione. Sarà un momento di riflessione, si legge nella nota, a seguito della campagna elettorale, che ci ha visti sconfitti e uno spunto per costruire e gettare le basi per nuove prospettive. Stiamo preparando un gruppo di lavoro per portare avanti idee e progetti per dimostrare alla città che il nostro impegno continua, seppur fuori dai banchi del Consiglio Comunale. E Civitavecchia è rimasto l'ultimo comune tra quelli con lo stesso numero di abitanti dove ancora non è stata nominata la Giunta. L'osservazione arriva dalla lista civica Il Buon Governo, che parla di un sintomo che non lascia ben sperare, in una città dove non è prassi indicare la squadra di governo prima del voto, alimentando così aspettative e speranze a più soggetti o a più forze politiche per lo stesso incarico che poi diventano i classici nodi che vengono al pettine. Per la lista Il Buon Governo viene da chiedersi se non fosse proprio Civitavecchia ad aver bisogno di una pratica così virtuosa, ossia di indicare la squadra di governo prima del voto, non solo per la tempistica ma anche per la qualità dei componenti. In ultimo la lista civica Il Buon Governo sostiene che sarebbe almeno importante se gli assessorati tecnici venissero affidati a soggetti competenti con un tasso tecnico al pari o superiore a quello dei dirigenti per ovviare ad alcuni errori dirigenziali di cui è stata spettatrice. Un nuovo sito da riqualificare, quello villanoviano, poi etrusco e romano, della Mattonara che la sovrintendenza ha da qualche giorno affidato alla sezione locale, la Ulpia, del gruppo archeologico romano. Si tratta dell'area che si trova nei pressi della famosa buca di Nerone in prossimità della centrale di Torre Valdaliga Nord. È un luogo che per anni in parte lo è ancora utilizzato da tantissime famiglie Civitavecchiesi durante il periodo estivo. Ascoltiamo l'intervista. Barbara De Paulis, nuova sfida, possiamo dire così, per il GAR perché la sovrintendenza vi ha affidato un altro sito, quello della Mattonara. Un altro impegno importante perché la situazione allo stato attuale prima di iniziare l'opera di ripulitura non è delle migliori. No, come potrete vedere è veramente ridotta molto male, per cui abbiamo chiesto di salvare, tra virgolette, anche questo sito che secondo noi è molto rappresentativo della nostra cultura Civitavecchiese. E poi fa pandan con la Necropoli della Scaglia perché molto spesso è nominata insieme nei libri di archeologia e storia. Quindi è veramente una bella sfida questa, forse ancora più della scaglia. Ci sono delle piante che occupano le tombe, c'è anche tanta immondizia che viene lasciata e è stata lasciata nel corso del tempo all'interno degli spazi che troviamo qua. Di che sito parliamo? Parliamo di una necropoli, probabilmente prima dell'età del bronzo perché qui, come sapete, la buca di Nerone e altre evidenze giustificano il fatto di poterlo pensare. C'era probabilmente un villaggio villanoviano, comunque precedente agli etruschi. E poi ci sono delle tombe arcaiche, quindi tombe a camera che sono, come hai detto, piene di immondizia. Se inoltre c'è una peschiera romana perché qui, diciamo, sotto la Molinari più o meno, probabilmente c'era una villa per un signore ricco che aveva la sua peschiera qui e i resti della peschiera ancora sono visibili. Vediamo che cosa, veramente allo stato attuale, oltre quello che hanno scritto nel 13, nel 32, Bassianelli e insomma quelli che c'erano all'epoca, non è che sappiamo un granché. Anche il numero delle tombe, per esempio? No, perché non è mai stata fatta una mappatura. Provvederemo pure a fare quello, come abbiamo fatto per la Necropoli della Scaglia, in modo che i posteri possono cominciare poi da un dato certo. Quindi vedremo di fare un bel lavoro e chiediamo anche, abbiamo già chiesto ai signori che frequentano il porticciolo, collaborazione, già si sono resi disponibili. E poi pensiamo di fare in autunno una spedizione di polizia coinvolgendo anche altre associazioni. Anzi, chi volesse già ci può contattare. Chiudendo gli occhi, senza la centrale, insomma con questo spazio sul mare, è un posto che sicuramente può attrarre tanti turisti. Certamente, come vedi la formazione è sempre di scaglia, molto più friabile rispetto a quello della Necropoli della Scaglia proprio, perché è di formazione più recente. Il mare si è ritirato più tardi di qua, no? E quindi vediamo un po' che cosa, sicuramente ha ospitato un villaggio, perché pure vedendo le prospezioni dall'alto, da Google Art, si vedono i fondi di capanna anche nel mare. Poi sappiamo che qui c'era un porticciolo etrusco, quindi insomma questo tratto di costa ha sempre attirato qualcuno, fino all'imperatore Traiano che poi ha deciso di costruirci il porto. Quindi, insomma, è sicuramente molto attrattivo come località. Se con la nuova giunta riuscissimo a fare un progetto di fruizione di questi luoghi dimenticati, potremmo offrire ai turisti veramente delle esperienze inedite. E torna per la quinta volta la manifestazione dal mito alla storia, organizzato come sempre dalla Proloco Civitavecchia nell'area archeologica delle Terme di Traiano, grazie al contributo di Fondazione Carici Vedenel. Tre gli spettacoli nel programma, ma cinque in totale, le volte che andranno in scena, comprese due repliche, sempre alle 21. Si parte sabato con Roma Domina Mundi, ideato o scritto e diretto da Mario Camilletti. Poi venerdì 19 e sabato 20 luglio sarà la volta di Neapolis, di Anthony Caruana e Gino Saladini, che sarà anche direttore artistico dell'evento. E infine venerdì 26 e sabato 27 luglio, perdersi Milano, scritto e diretto da Francesco Angeloni, con Chiara Barbera e De Leonora Piermarocchi. Sentiamo. Torna dal mito alla storia anche quest'anno, quinta edizione, con il contributo anche di Enel. Come mai avete deciso di dare di nuovo il vostro contributo? Come Enel siamo lieti di essere qui anche quest'anno, per questa rassegna che trasmette Cultura, arriva a tutti, a grandi, a bambini, ed è uno spettacolo che si rinnova ogni anno, si arricchisce ogni anno di significati e di messaggi. Insomma, quanto è importante questo spettacolo per aumentare la cultura nei civili da vecchiesi, possiamo dire così? È importantissimo e sappiamo già che saranno in tanti a partecipare, come lo Stato negli ultimi quattro anni, perché sono ben cinque anni che il mito e la storia porta nella nostra città, ma anche nel comprensorio, perché vengono in molti anche da fuori, una dose di cultura notevole e importante. Dal mito alla storia, qual è il programma di quest'anno? Il programma di quest'anno ha un tema che unisce queste tre rappresentazioni, molto affascinante e molto curioso, diciamo, perché si riferisce alla nascita mitologica di città antiche. Siamo felici come prologo di aver avuto la possibilità di organizzarlo, siamo alla quinta edizione e per questo dobbiamo ringraziare i nostri sponsor, che sono Enel, Fondazione Cassa di Risparmio di Civita Vecchia, BCC Roma, Agenzia di Civita Vecchia e Terme dei Papi. Gino Saladini ha parlato di cultura fruibile, quindi l'obiettivo è questo, rendere la cultura non noiosa. Ma la cultura non è noiosa se è fatta bene e quindi saranno tre spettacoli veramente all'insegna della partecipazione del pubblico, tre spettacoli di altissimo livello, di cui parleranno adesso gli autori e i conduttori. Sono felicissimo per la quinta volta di essere il direttore artistico di questa meravigliosa rassegna, spero che tanti, tanti Civita Vecchiesi verranno, compresi molti giovani e anche i bambini. Parliamo più nello specifico di questi spettacoli, quello che ti riguarda, qual è, insomma ci racconti un po' la storia. Sì, quello che mi riguarda insieme a Gino Saladini è Neapolis. Noi racconteremo, attraverso un viaggio surreale, un po' particolare, la storia di Napoli, dalle origini ai giorni d'oggi, toccando quelle che sono le figure mitiche di Napoli e anche le figure contemporanee. Faremo il tutto nella formula teatro-cansone, quella a cui abbiamo abituato il pubblico. Questa volta ci saranno ancora altri artisti rispetto al solido, quindi danza, recitazioni, videoimmagini e tanta musica. Invece, Perdersi Milano, di che cosa si tratta? Eccomi, sono Chiara Barbera, regista, insieme a Francesca Geloni, di Perdersi Milano, ovvero la storia della fondazione di Milano, raccontata come la storia d'amore tra Roma e Milano. Due città che la storia porterà a incontrarsi, innamorarsi e poi perdersi. Come al solito, gli avanzi di scena collaborano con i volontari della Proloco per portare uno spettacolo sempre nuovo, innovativo. Nella Commissione Sanità, che aveva all'ordine del giorno, la richiesta di parere relativa alla deliberazione circa la definizione dei posti letto ospedalieri in autorizzazione nella Regione Lazio per il biennio 2024-2025, attraverso una riformulazione presentata dalla Giunta regionale, è stato accolto il principio di fondo proposto dal gruppo di Italia Viva, mediante una serie di osservazioni. La nostra proposta mirava un riequilibrio della distribuzione dei posti letto nelle asle del territorio regionale, afferma la capogruppo di Italia Viva alla Regione Lazio, Marietta Tidei, ad esempio quella Roma 4 gravata negli ultimi anni sia dall'incidenza dei flussi turistici che da quella legata agli sbarchi degli immigrati presso il porto di Civitavecchia. Tale principio distributivo è stato sostanzialmente accolto e la nuova redistribuzione dei posti letto è orientata in tal senso. Termina qui la prima parte del TG, ma restate con noi perché subito dopo il break ci saranno le notizie sportive. Apriamo la pagina sportiva con il calcio. Il Civitavecchia è ovviamente ambizioso, il nome stesso della città impone di giocare sempre per vincere. Sono le prime parole del nuovo direttore sportivo nerazzurro, Marco Angelo Core, che si è presentato ai tifosi, ha promesso altri acquisti, oltre ai sette già presentati ufficialmente. Sentiamolo in questa intervista. Direttore, avete presentato oggi diversi giocatori che sono arrivati qui al Civitavecchia. La prima domanda però è per lei. Quanto è felice di essere il direttore sportivo del Civitavecchia? Tanto. Era una piazza, dopo tante piazze importanti, si è giunta una piazza ancora più importante. Sono stato accolto benissimo sia dei presidenti che da voi e sono felice, molto felice. E per quanto riguarda i giocatori, insomma, la Rosa si sta costruendo con anche il nuovo allenatore? Si sta costruendo, sì. Hai detto bene. Si sta costruendo, piano piano, fatta insieme all'allenatore, secondo le sue esigenze e quello che vogliamo fare. Ci ho un po' di pazienza, sono tanti giocatori nuovi, dobbiamo costruirla in modo perfetto, senza far volipindare, ci buttare soldi. Quindi arriveranno comunque altri acquisti? Sicuramente. Sicuramente ancora mancano degli acquisti, mirati a quello che deve essere il modello di squadra. e dobbiamo dare anche un volto nuovo nel senso di professionalità. Anche lo staff è di primissimo ordine, questo è importante dirlo, dove la società ha investito molto sullo staff. Possiamo dire in conclusione che avete obiettivi ambiziosi comunque? Beh, già il nome stesso è sinonimo di obiettivi ambiziosi. Non servo io né i nomi né niente, la città o Merida. Il nome stesso Civitavecchia non è una squadra che parte per servarsi, insomma. E novità in attesa in casa Civitavecchia Calcio, a differenza di quanto annunciato nelle scorse settimane, dove figurava nell'elenco dei giocatori riconfermati, Lorenzo Gagliardi non farà parte della rosa nera azzurra nella prossima stagione. Ad annunciarlo è stato direttamente il centrocampista, che ha scritto una lettera sui propri profili social, dove ringrazia tutto il movimento per quello che di buono è stato fatto nei suoi tre anni di permanenza, dove è giunta anche la vittoria della Coppa Italia regionale. Un'assenza che peserà sul nuovo Civitavecchia di Massimo Castagnari, visto che Gagliardi ha sempre garantito impegno, tecnica ed utilità, non solo al centrocampo, ma a tutta la squadra. Da domani riprenderanno le partite degli europei di calcio con i quarti di finale. Come tutti i giorni TRC è presente in Germania, grazie alla giornalista Massimo C. Cognani, che ci racconta le ultime notizie dai vari ritiri delle squadre ancora in corsa. Sentiamo. Sono rimaste in otto a giocarsi il titolo di Euro 2024. Si inizia domani da Stoccarda con Germania-Spagna il match più importante di questi quarti di finale tra due squadre che avrebbero sulla carta potuto essere tranquillamente le due favorite per la finalissima. Ovviamente ci arrivano in maniera diversa, o magari la Spagna è quella che ha fatto vedere le cose più belle, più intriganti. Ha giocato quattro partite, le ha vinte tutte e quattro, mettendo in campo tutta la sua qualità dei suoi uomini migliori, da Morata a Rodri. Ed è una squadra che, a mio personalissimo avviso, è una delle candidate alla vittoria finale di questo europeo, soprattutto per la qualità espressa dagli uomini di Luvis e della Fuente. Però c'è la Germania che gioca in casa, vuole cancellare l'onte all'amarezza della sconfitta del 2006, quando perse in semifinale a Dortmund contro l'Italia. Ed è una Germania che Nagelsmann ha plasmato a sua immagine e somiglianza per provare a farla galoppare in questo europeo per arrivare all'appuntamento finale. E' chiaro che nell'accoppiamento capita l'avversario più difficile, la Spagna, la Roia, che sta giocando un torneo inderebile. E probabilmente da questo quarto di finale potrebbe uscire, presumibilmente, la vincente dell'europeo. Poi c'è Inghilterra-Svizzera che si giocherà sempre domani ed è il match che ovviamente ci stimola particolarmente perché poteva esserci l'Italia al posto degli elvetici. Gli inglesi hanno giocato finora un torneo a corrente alternata. Si sono salvati grazie ai gol di Bellingham e Kane all'ultimo respiro per approdare ai quarti di finale, mentre dall'altra parte c'è una Svizzera che ha maramaldeggiato contro gli azzurri di Luciano Spalletti e vuole continuare a fare bene in questo contesto. E poi domani saranno altre due incontri da giocare, quello tra l'Olanda e la Turismo di Vincenzo Montella e anche tra la Francia ed il Portogallo. E questa è un'altra partita che seguiremo e da valutare e guardare con estremo interesse perché si affrontano due squadre similari. La Francia non ha ancora espresso al meglio il suo potenziale, non dimentichiamo che sono i vice campioni del mondo avendo perso a do alla finale contro l'Argentina nel 2022 nell'ultimo mondiale. Mentre dall'altra c'è un Portogallo che gioca bene, ha tanti elementi di qualità e tante frecce al suo arco per poter sperare di continuare ad andare avanti. Non l'hanno messa in franche. Cominciamo subito con Germania e Spagna, quella che ci sarà domani a Stoccarda e vedremo chi delle due riuscirà a strappare il pass per la semifinale. Parliamo adesso di nuoto, secondo oro per Lorenzo Ballarati agli europei juniores in corso di svolgimento a Vilnius. Nelle acque lituane il tritone della nazionale italiana e della Cosa Raniene ha portato a casa loro anche nella staffetta mista 4% stile libero nella quale gli azzurri sono riusciti a prevalere dopo un lungo duello con la Germania, ma alla fine a vincere sono stati gli italiani con il tempo di 3-28-34 che è anche il nuovo record dei campionati europei. a dare un grande contributo al quartetto dove c'era anche il noto talento Sara Curtis ci ha pensato proprio Ballarati che ha battuto il muro di 49 secondi chiudendo con 48,96. Quindi un altro oro per il ragazzo allenato da Fabio De Santis dopo quello ottenuto nella 4% stile libero maschile. Adesso il basket. Nella prossima stagione sulla panchina della cestistica siederà un allenatore romano. Ne hanno dato notizia il presidente Stefano Rizzitiello e il direttore sportivo Maurizio Campogiani nel corso della conferenza stampa andata in onda su TRC. I massimi dirigenti rossoneri hanno nel mirino un coach che ha avuto molte esperienze negli ultimi anni in Serie C ed in passato è stato anche in B sottolineando che i papabili per prendere il posto lasciato vacante da Gabriele Larosa sono tutti provenienti dalla capitale. Per quanto riguarda il roster sarà necessario prelevare centri e ali grandi il ruolo in cui il vivaio Civitavecchiese è storicamente carente. Il DS Campogiani proverà a valutare dei profili low cost visto lo scarso budget a disposizione al momento sempre che non arrivino accordi con nuovi sponsor. Chiudiamo con la ginnastica artistica primavera uscita di spessore per la SGIN dopo la vittoria dello Scudetto da domani a domenica la squadra diretta da Camilla Ucolini e Marco Massara sarà impegnata agli italiani assoluti di Cuneo che saranno trasmessi in diretta su Eurosport e Discovery Plus a difendere i colori del club Civitavecchiese ci sarà Manila Esposito alla sua ultima gara prima delle Olimpiadi di Parigi con il capitano anche Nunzia Dercenno in prestito dal Salerno che sarà impegnata in tutti e quattro gli attrezzi Emma Gubbiotti che ha ottenuto la qualificazione dopo essersi imposta nella Coppa dei Campioni sarà assente invece Iuli Marano per un risentimento fisico tra le più piccole ci saranno Lorenza Fornari ed Esther Pazzon impegnate nel criterium gara riservata alle migliori 20 atlete d'Italia categoria A4 ed era questa l'ultima notizia del nostro telegiornale grazie per averci seguito e un buon proseguimento di serata a tutti grazie 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 a tutti